ciao ragazze e ciao ragazzi e ben ritrovati su recensioni di bellezza oggi l'argomento del video è sulle colorazioni e in particolare sulle colorazioni per per i capelli e vi parlerò in particolare di della tinta che sto usando in questo periodo e quindi vi farò un po un resoconto su come come mi trovo la tinta io l'ho fatta a questo punto praticamente una settimana fa e non so se si notano ma ci sono moltissimi bei riflessi biondo biondoramati ora la tinta in questione è questa della bio clean della bio clean la bio colorist e la tonalità che ho fatto è la 7,45 ma voglio fare prima una una piccola premessa intanto se ve lo stesse chiedendo questo è un make up realizzato tutti con i prodotti della vegas cosmetics se siete interessate magari fatemi sapere lasciatemi un commento in maniera tale che possa diciamo farvi conoscere meglio questo brand che a me in questo momento sta piacendo moltissimo allora ho deciso di diciamo passare dalla diciamo colorazione in salone a una colorazione casalinga il motivo principale è perché cercavo una colorazione più delicata possibile per il problema appunto dei miei capelli quindi il fatto di avere di aver scoperto comunque di avere l'alopecia è stato uno dei motivi per cui sono cercato sto cercando comunque di passare la colorazione più delicate e più diciamo sicure possibili molto spesso andando in salone mi è capitato in passato di non proprio avere delle reazioni allergiche ma comunque sentivo la cute molto arrossata mi bruciava e proprio soffrivo nel vero senso della parola senza contare il tempo che io ci andavo a investire perché tra taglio colore messo in piega io andavo non meno di tre ore tre ore lì ogni mese e mezzo due più o meno perché era insomma è questo più o meno il tempo che io faccio passare due proprio quando siamo in tempi molto lunghi quindi mi sono resa conto che quel tipo di colorazione non andava più bene non non mi sentivo più che quella colorazione fosse quella adatta per me io vengo poi da anni di colorazioni fatti con colpi di sole io ero bionda quindi immaginatevi quanto stress hanno patito i miei capelli so che le sulle colorazioni diciamo ci sono varie tipologie di pensiero si passa appunto dai pensiero quello che comunque le colorazioni sono sicure a quelle che le colorazioni possono creare anche determinare delle patologie io non sono così diciamo estremista in ogni caso dal momento che ho questo problema cerco di utilizzare delle tinte sicure o comunque se possono avere estratti vegetali o sostanze naturali all'interno per me è sicuramente la cosa migliore quindi sono passata a farmi la tinta a casa che chiaramente è tutta un'altra vita perché decido io quando voglio fare la tinta non devo prendere appuntamento mi sono poi organizzata con una cettolina in plastica con il pennello quello per aspettate vediamo un po' ve lo faccio vedere ecco vedete proprio con un pennellino come quelli del parrucchiere quindi io semplicemente faccio così riga per riga e mi metto la tinta quindi viene anche un risultato secondo me molto professionale poi voi giudicate voi insomma se per voi è un risultato accettabile per me lo è assolutamente ripeto soprattutto per il fatto che non devo perdere tempo a stare molte ore dal parrucchiere quindi dover prendere appuntamento ne anticipo quindi erano tante situazioni che a me non piacevano più quindi io dal parrucchiere vado a fare solo il taglio taglio e messo in piega e basta ogni dipende adesso sono abbastanza corti vi dico la verità quindi può darsi che tirerò anche un po' più a lungo mi sembra che l'ho fatti i capelli a fine febbraio se non sbaglio quindi probabilmente tirerò ancora tutto aprile con questo taglio poi verso maggio giugno vediamo un po' quanto si è allungato e andrò a fare una smontatina quindi io sono partita da colorazione come quella della fitocolor che purtroppo in questo momento avendo cambiato tutta la gamma di colori io non trovo più nemmeno la fitogloss che per me era quel riflessante che io gli davo per aggiungere colore tonalizzare un po' dopo che la tinta dopo i lavaggi viene un po' a diciamo a sbiadirsi quindi io sono partita da quelle poi ho fatto le natural color che quelle sono veramente tutte su base vegetale però erano un po' blande quella con cui mi trovavo meglio era la fitocolor la amavo però purtroppo le mie colorazioni non la fanno più sono rimaste tutte delle tonalità molto sul castano, nero, biondo però sempre un biondo sul castano quindi non le ho più trovate mentre mi è stata proposta questa azienda qui che in realtà la bioclean è una marca dell'azienda istituto ganassini che a me ha subito diciamo suscitato fiducia perché io la conosco perché produce anche i cosmetici della rilastil non so se conoscete la marca però è una marca prettamente di cosmetici da farmacia quindi c'è anche una grande ricerca dal punto di vista scientifico sui loro prodotti più o meno a tutti i prodotti che si vendono in farmacia o parafarmacia quindi quando io sono stata in farmacia e mi hanno proposto questa tinta ho accettato e ho detto sì va bene proviamo allora non è una tinta su base vegetale però contiene olio di argan biologico e sostenibile quindi già il fatto che all'interno abbia un olio così nutriente per i capelli che non li va assolutamente a danneggiare nella maniera più assoluta cioè i capelli sono spettacolari quando fate questa tinta poi è senza ammoniaca, senza risorcinolo, senza parafenilla adiamina, senza alcol dermatologicamente testato su pelli sensibili e io vi posso assicurare che ho una cute molto sensibile negli ultimi anni addirittura io quando soffro di mal di testa non mi posso nemmeno toccare il cuoio capelluto quindi vi posso dire che è molto molto delicata testato sui metalli pesanti, nickel, cobalto, cromo, palladio e mercurio quindi anche per chi soffre di allergia sui metalli pesanti questa tinta è assolutamente sicura quindi cosa vi devo dire? è una classica tinta quindi troverete il tubo di crema colorante il flacone rivelatore, la bustina monodose con la maschera e la bustina monodose con lo shampoo sempre della bioclean quindi avrete anche la possibilità di provare il balsamo e lo shampoo e poi di riacquistarlo in un secondo momento i guanti e il foglio illustrativo io sono partita da questo biondo scuro dorato rame il 6,34 se riesco a reperire una foto su instagram ve la faccio vedere perché io questo l'ho fatto credo a febbraio gennaio-febbraio mi sembra ma il colore era molto bello intanto vi devo dire che copre i capelli bianchi non so se dipende dalla colorazione o è proprio la tinta ma li copre benissimo anzi a me lascia proprio un bel riflesso rame quindi proprio si vedono cioè il riflesso si vede molto intenso non ne ho tanti però cominciano ad esserci e i miei sono proprio i miei capelli sono proprio bianchi quindi cioè è chiaro che con una colorazione del genere il colore viene bello come posso dire bello intenso, vibrante a me questa colorazione era piaciuta moltissimo però in vista dell'estate volevo fare un colore un pochino più chiaro e quindi sono andata l'ho fatta proprio la scorsa settimana sul 7,45 che è biondo rame mogano ora dovete capire la colorazione di partenza come vedete non è proprio lo stesso colore però diciamo che stavamo sulla stessa gamma di colori e vi devo dire la verità questa a me è piaciuta moltissimo mi piace anche il fatto che ripeto sia all'interno abbia questo olio di argambio logico che a me chiaramente fa piacere che sia all'interno del del prodotto perché va molto a nutrire il capello il capello è lucidissimo quando fate cioè vi andate a asciugare dopo aver fatto questa tinta cosa vi posso dire altro io la compro in parafarmacia ma l'ho già vista su Amazon e probabilmente le prossime volte la riacquisterò lì perché l'ho già vista a un prezzo scontato molto interessante e ve la consiglio la consiglio alle persone che come me amano fare la tinta a casa vogliono un risultato bello intenso un colore vibrante non artificiale ecco questo ci tengo a sottolineare non è un colore artificiale non è un colore che mamma mia si vede che ti sei fatta una tinta strana in testa ecco no a me quel tipo di tinte non piacciono come vedete io sono anche una persona che ama molto il diciamo un look discreto e molto naturale però insomma ama anche sperimentare tra un paio di settimane anzi tra un paio di lavaggi credo che andrò a rinforzare un po' il colore e lo andrò a rinforzare utilizzando una maschera riflessante io poi magari vi parlerò delle maschere riflessanti in un secondo video perché diciamo questo era proprio dedicato a fare diciamo una recensione diciamo su questa su questa tinta che a me ripeto mi è piaciuta moltissimo il tempo di posa è diciamo un po' lungo però rimaniamo sempre negli standard perché 40 minuti quando la mettete la prima volta perché chiaramente andrete a coprire poi tutto e poi dopo sulla ricrescita 20 minuti e sulle lunghezze 15 minuti quindi tutto sommato insomma siamo sulla media delle tinte normali ora la mia sarei io sarei molto tentata di cercare ancora delle tinte magari su base vegetale per allungare un po' i tempi di diciamo di applicazione tra una tinta e l'altra questo perché purtroppo dopo un po' la tinta sbiadisce a me devo dire che sono molto fortunata perché questo tipo di colorazione so che vira in alcuni capelli in maniera bruttissima anche sulle tonalità un po' sul rosa cioè diventa un colore strano io per fortuna ho la fortuna che il capello diciamo mantiene molto bene questo tipo di colore quindi l'unica cosa che andrò a fare tra qualche lavaggio è fare una maschera riflessante sulla tonalità sempre ramata e quindi continuerò ad andare avanti insomma alternandolo tra ogni due tre lavaggi farò questa maschera però il mio pensiero è comunque di allungare il più possibile chiaramente il tempo tra una tinta e un'altra e quindi sarei molto tentata di cercarmi qualche tinta su base vegetale è un po' difficile perché l'ennè chiaramente l'ho già scartato perché su capelli colorati credo che non si possa fare mentre sto cercando di appunto studiare su internet qualche tinta su base vegetale che faccio al caso mio se ne conoscete qualcuna lasciatemi un commento qua sotto così magari ci scambiamo qualche informazione io per ora sono molto soddisfatta di questa tinta che vi ricordo si chiama Bioclean la marca peraltro questa marca fa degli shampoo e dei balsami fantastici io ho utilizzato 6,3 la prima volta e adesso ho fatto il 7,45 quindi vi lascio poi magari un link su dove la potete andare ad acquistare se siete interessate comunque in ogni caso è una marca abbastanza diciamo distribuita in maniera abbastanza capillare quindi dovete riuscirla a trovare nelle vostre farmacie o parafarmacie io per il momento vi saluto prendo fiato e niente ragazze come sempre se vi è piaciuto il video lasciate un like mi fate crescere il canale e riusciamo anche a crescere come community iscrivetevi se vi piacciono questo genere di video che io faccio che sono praticamente dei video in cui io chiacchiero dei prodotti che utilizzo e ci vediamo al prossimo video lasciatemi dei commenti per sapere voi che tinte usate ciao ragazze a presto